In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la consigliera regionale di parità Marianna Fanelli ha invitato i consigli comunali della Basilicata a deliberare un atto di indirizzo con cui si impegnano, come già è avvenuto a Roma, Parma, Tivoli e Trento, ad intervenire nei procedimenti penali per reati commessi contro le donne e i minori. Per la Fanelli si tratta di una buona prassi affinché tali atti di violenza abbiano una rilevanza pubblica. Secondo il rapporto Eures-Ansa, in Italia fino a settembre 2013 sono stati compiuti più di 80 omicidi su donne tra i 30 e i 40 anni, mentre oltre 100 femminicidi sono stati nel 2012. La violenza di genere, afferma la Fanelli, si infrange sui diritti umani e sull'integrità fisica e morale delle donne e dei minori e dunque diventa importante debellarla sostenendo l'operato delle associazioni e delle strutture competenti.